L'energia si può ricavare anche dal mare. L'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, ha presentato nella sua sede romana un dispositivo a basso costo in grado di produrre energia dalle onde del mare, pensato proprio per le coste italiane dove le onde sono di piccola altezza e frequenza alta. Ideale per le piccole isole, oggi alimentate da centrali a gasolio, più inquinanti e costose. Il PEWEC, questo è il nome che sta per pendolo che converte l'energia delle onde, consiste in un sistema galleggiante molto simile a una zattera da posizionare in mare aperto che può creare energia elettrica sfruttando l'oscillazione dello scafo per effetto delle onde. Se noi riusciamo a catturare quindi questa energia, siamo in grado di produrre ad esempio nelle coste della Sardegna, possiamo avere a disposizione nelle coste della Sardegna circa 13-14 kilowatt ogni metro di costo. Se immaginate di proiettare questo dato per i chilometri di coste che abbiamo in Italia e le proiettiamo anche verso il largo perché ovviamente questi dispositivi riescono a catturare l'energia dal mare non solo vicino alla costa ma anche all'arco, la quantità di energia comincia a essere sicuramente interessante. Lo sfruttamento dell'energia delle onde, spiega l'Enea, presenta diversi vantaggi anche rispetto all'eolico e al fotovoltaico. Un basso impatto ambientale e visivo, una minore variabilità oraria e una maggiore produzione durante l'inverno proprio quando aumentano i consumi. Una possibilità inoltre per favorire la crescita economica e l'occupazione. Grazie a tutti.